Ciao raga, come state? Spero tutto bene. E niente, allora, siccome TikTok mi ha dato la possibilità di fare video più lunghi di un minuto, quindi complessivamente di tre minuti, sono qui per registrare un video. Innanzitutto volevo salutarvi. Allora, voglio premettere che io non sono una truccatrice, non sono un'esperta, anzi zero, perché non sono mai stata una che si trucca tantissimo, però nel tuo periodo mi sto un po' riscoprendo. Allora, io solitamente non utilizzo mai fondotinta, ma utilizzo questo correttore qua, di Yves Saint Laurent, scusate anche le pronunce dei trucchi, ma sì, ok, ci siamo. E' a penna, stick con il click. E' molto carino perché copre tipo le occhiaie con le imperfezioni, e quindi io lo utilizzo qui e qualche imperfezione dell'altro. Dopo lo utilizzo anche qua, come primer, perché mi ci trovo veramente bene. Lo spalmo con questo, in tedesco si chiama lingua di gatto, ma non sono sicura, e se non è giusto scrivetemi nei commenti che pennello si utilizza. Un po' comunque io in tanti video ho visto che bisogna picchiettare e maestrisciare. Dopodiché utilizzo questa mattita qui di Dior per le sopracciglia, e io le pettino semplicemente, non ci vado a colorarle, perché ce le ho già abbastanza folte. Questo è l'illuminante di Diego della Palma. C'è proprio uno spolveratino. Non odiatemi se sbaglio, solo che vabbè, non sono tanto capace. E' quello delle liner. Io farò soltanto la codina, perché voglio essere molto easy, semplice. Se volete un trucco un po' più particolare, che qualche volta faccio, scrivetemelo nei commenti, magari tutto un po' più colorato estivo. Però siccome oggi utilizzo gli occhiali, lo faccio molto semplice. Quando metto le lenti, invece, mi piace abbondare. Ebo, non so come l'ho messo. Quindi scusatemi, non insulti. Allora, io di solito faccio così, cioè nel senso di qua lo faccio prima, così che vado meglio. Per di qua, invece, cerco di fare tipo due puntini per cercare di arrivare con la codina e vedere se riesco a farlo. Finito, quindi sì, insomma, praticamente non metto niente a vostro. E consigliatemi poi anche uno spray, quello per chissà che, diciamo, perché non ce l'ho e mi piacerebbe incontrarlo. Quindi consigliatemi ne una. E scusate se il trucco non è chissà che e non sono molto brava. Però, ciao!